Gian Paoletti, prego. Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Questa interrogazione riguarda il discorso della viabilità in via Puccini. Come ben tutti noi sappiamo, l'ospedale Sito in Viale della Vittoria nella settimana precedente è stato chiuso e sono stati trasferiti tutti i reparti, pronto soccorso e tutto quanto, l'iter, su Alcar Urbani. Questo secondo me, il discorso del traffico, visto che attualmente via Puccini è stata sostituita come se fosse quell'asse nord, già il traffico è già pesante e negli ultimi anni noi abbiamo anche visto degli incidenti e soprattutto anche i residenti si sono molto lamentati per l'alta velocità. La precedente amministrazione aveva già...